Mi chiamo Ovidio Puzzolo, vengo dalla Sardegna. I miei problemi prima di venire in clinica dal dottor Palmosa era innanzitutto avere un bel sorriso e poi anche la masticazione, il fatto di dover comunque mangiare e non mangiare bene e correttamente. Nella parte, nell'arcata sopra, ho messo sei impianti in breve tempo. Il chirurgo è stata una persona formidabile, l'intervento è andato molto bene, ho avuto addirittura un piccolo trappianto osseo che è andato alla perfezione. Per cui oggi devo dire che sono fortunato e molto molto soddisfatto. Sicuramente oggi farò dei bei sorrisi, qualcosa che prima non mi potevo permettere di farlo di fronte alle persone. Magari si arrederò molto di più a mia moglie o anche magari guarderò forse più spontaneamente anche le altre persone facendo vedere comunque il mio bel sorriso. Non provoca. Vi devo proprio dire che i dubbi sono svaniti, si è andato veramente al lato pratico e una volta che si entra in clinica si vede che veramente è una struttura dove accoglie dal primo gradino fino all'ultimo per uscire. Lo consiglio a tutti gli italiani, a tutti gli amici che mi conoscono. Lo consiglio agli amici sardi perché la clinica è di Dottor Parmas, è un sardo come noi. Quello che vi posso dire, aio, venite tutti!